Guarda, io ho trovato una scrittura estremamente moderna, devo dire che Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino sono due piccoli geni, due piccole creature rare che secondo me andrebbero veramente protette. È abbastanza incredibile trovare una serie del genere perché intanto hanno veramente un tono di voce estremamente contemporaneo e il personaggio di Midge è un esempio chiarissimo, una donna estremamente indipendente e per quegli anni non era facilissimo esserlo. E non solo, una donna che a un certo punto grazie a una crisi con il marito scopre di essere un'altra, di avere una carriera da stand-up comedian e si lancia così, senza rete in questa cosa. Per cui devo dire che per noi donne insomma vedere un modello del genere è sicuramente interessante, divertente. Probabilmente la cosa più difficilissima per me come un attore, spiegare questa particolare parte, è che negli anni 50 le donne non erano necessariamente ambiziei, non avevano sogni outside della vita domestica e quindi la parte più difficilissima per me è spiegare una carriera che è davvero contenta. Questa è davvero felice con la vita, che si sente che ha fatto tutto, hai un figlio, hai un figlio, hai un figlio, hai un figlio, hai un amico, hai un money. N'è nulla più a volare, quindi è molto più difficile. Quando sei una chiamata in 2018, dove vuoi riuscire molte cose, hai molte cose, hai ammissi, hai un pochato, hai un pochato, hai un pochato e hai un pochato, hai un pochato, ti ha pensato, no, sorry I think the magical theatricality to this piece is a welcome relief to what goes on in our culture, which is a darker more difficult situation and speaking from someone who's living in the United States right now we need all of that joy and all of that kind of connection to love and romance and this show gives an uplifting kind of spirited look at an independent woman what's the most marvelous thing about this show it's run by women, it's portrayed by women and it's predominantly for women and yet we've reached a male audience too so I'm really proud of that it tells an honest story of a really cool woman and her finding her voice and we found a place in the entertainment industry and people want to see it and here we are in 2018 we still have the same struggles we are still fighting for the right to choose our own destiny what we want to do for a living how we want to try to balance having a family and work and what to do with our own bodies so we're still we're still faced with the same challenges and it's nice to have a show that further champions our voice I think just breaking in well I mean on a small level if you're a comedian a woman comic today you're going to look at that and go yeah it's still hard now not really much easier now than it was before women are facing a lot of the same challenges today that they faced then it's strange you'd think the problems would be different but a lot of them are really not so different we've made strides we need to make more strides because women are inherently strong there are so many different kinds of women in the world and not enough of them represented on television so I'm really grateful to be a part of this show and to be able to play a woman who is so self-empowered who is so self-confident who's unapologetic about her drive and ambition we are fortunate in television to have quite a few extraordinary three-dimensional and flawed women but we still need more